Il figlio di Cristiano Ronaldo sarà forse abituato alle prudezze del padre in campo, ma la foto sugli spati del piccolino ha fatto il giro del web. Eccola! Durante la partita a Celta Vigo-Real Madrid, Cristiano Ronaldo è riuscito a segnare ben 4 gol, sommergendo la squadra avversaria per 7-1. Il campione, Cristiano Ronaldo, è riuscito dunque a mettere a tacere i critiche e fischi dei tifosi del Bernabeu per la stagione poco esattante della squadra e a stupire tutti con un tiro dalla distanza, colpo di testa, punizione e un tapin a porta vuota. Cristiano Ronaldo è una macchina perfetta e un campione che piace davvero a tutti, tifosi e sponsor, tranne che al suo figlio. Il piccolo di casa Ronaldo, infatti, è un fan di Messi, come rilieverato da lo stesso campione portoghese durante la cerimane del pallone d'oro. Mio figlio è un tuo fan, disse Cristiano Ronaldo alla pulce. Proprio in virtù di questa passione per Messi, è rimbalzata a tutti i social la foto del figlio di Cristiano Ronaldo allo stadio e la sua espressione nel vedere suo padre segnare ben 4 gol. Cristiano Ronaldo segna ben 4 gol, lo stadio esulta, la madre è felicissima, ma il bimbo lo ignora completamente. Chissà cosa stava guardando il bimbo sul telefono mentre il papà si dannava l'anima in campo per fare gol. Cristiannini, infatti, se ne stava accomandato in tribuna a giocare col telefono o a guardare altro. Tra tanti commenti che dicevo dei suoi social, molti hanno ironizzato sul fatto che il bambino potesse stare a guardare proprio un video di Messi. Ironie della sorte.